Sindaco Luciani da qualche ora è dimissionario come primo cittadino di Francavilla, aspetta l'evolversi della situazione, però conferma la sua disponibilità a scendere in campo per le regionali nel centro-sinistra. Sì, dimissionario, ma come vedete sono in comune, non lascerò neanche questo ruolo per un minuto. Ho detto già quello che dovevo dire, sono disponibile a essere candidato alla presidenza della giunta regionale per il centro-sinistra, sto aspettando che si chiariscano alcuni nodi, io penso che occorrerà ancora questo mese per chiarire questi nodi. Certo il tempo corre, corre tanto perché fino al 3 ottobre potrò attendere, dopo il 3 ottobre dovrò decidere se restare qui a Francavilla oppure se lanciarmi in questa nuova avventura, cosa che farò. Ma ha già parlato con i vertici della coalizione di centro-sinistra? Beh, esistono dei vertici, intanto questa è la domanda, con il segretario, attualmente il segretario facente funzione, il vice segretario Renzo Di Sabatino, ho parlato, ho parlato a lungo per quanto riguarda il Partito Democratico, ho parlato, ma soprattutto continuo a parlare con la rete che è sul territorio, ci sono tanti amici che mi sollecitano ad andare avanti, stiamo costruendo un bel progetto tutti insieme, un progetto che parla di rinnovamento della politica, di una politica che deve essere attenta all'ascolto dei cittadini. Ecco, la parola ascolto è proprio la parola chiave. Ma qualora il centro-sinistra, il PD, dovessero candidare un'altra personalità politica, lei cosa farebbe? Potrebbe anche decidere di candidarsi lo stesso con una lista civica? Potrei decidere, anche questo, perché non è sufficiente un nome a stabilire se un progetto è valido o no. Un nome è sufficiente a dare la garanzia di una cosa, diciamo, del proprio curriculum, della propria... La fama ci precede in alcuni casi, quindi le persone sono importanti. Aldo Moro, un grande statista, poneva le persone al centro della nostra Costituzione, lui è stato uno dei pari costituenti, però non sono sufficienti le persone. Bisogna vedere con che progetto si presenta un nome alternativo, se il progetto è un progetto interessante. Io continuo a fare il sindaco molto volentieri.